Da sabato scorso nel Centro Storico di Grosseto è Natale. In Piazza Dante infatti è stato inaugurato il mercatino natalizio organizzato dal CCN, Centro Commerciale Naturale del Centro Storico, e dal Comune di Grosseto. Illuminato a festa anche il cuore della città, con musica e filodiffusione. Sono 22 i tipici chalet in legno visitabili fino al 28 dicembre. Finalmente anche a Grosseto siamo felici, stiamo andando avanti verso Natale meraviglioso. Parte il progetto delle casette di Natale, un grande impegno dell'amministrazione comunale, dell'istituzione Lemura, insieme al CCN, all'insegna della sinergia. Anche Grosseto finalmente vede questa meravigliosa realtà, con prodotti enogastronomici, alimentari, di prima qualità, quindi un'esortazione a tutti a venire ancora di più a Grosseto in Piazza Dante, a festeggiare il Natale con le casette di Natale. Ci sarà anche proprio Babbo Natale. Questa è soltanto la prima parte, ma ci saranno veramente tante altre sorprese. E questo con il contributo dei commercianti, ma anche forte dell'amministrazione comunale. Vi aspettiamo fiduciosi per dare un contributo al commercio nel cuore di Grosseto.